Ci troviamo all'interno della sede legale della Siciliana Maceri a Chienchitta, frazione di Taormina e siamo con il direttore generale di Siciliana Maceri, Benedetto D'Angelo, al quale chiediamo perché la Sicilia è sempre così indietro rispetto alle altre regioni italiane nel conferimento dei rifiuti e nella differenziata in generale? Buongiorno e benvenuti nella nostra sede. La Sicilia è una regione che si è data da fare in questi ultimi tempi sulla sensibilizzazione, sulla raccolta differenziata, solo che ancora non è ben entrata nella mentalità del siciliano la raccolta differenziata non per una problematica proprio della cultura siciliana ma perché c'è stata una carenza a monte sulla sensibilizzazione della raccolta differenziata da parte di enti o di chi di competenza per portare la conoscenza sulla raccolta differenziata. Quindi oggi la media nazionale è dell'81% della raccolta differenziata e invece la Sicilia ancora siamo al 58%. Miglioriamo di giorno in giorno ma sono piccoli passi e siamo molto indietro in confronto alla mentalità nazionale. Siciliana Maceri negli ultimi tempi si è messa a disposizione anche di enti e non solo per propagandare la mentalità della raccolta differenziata ed è sempre a disposizione di chiunque voglia intraprendere questa strada che sicuramente è la strada migliore per una questione non soltanto economica ma anche per aiutare il posto dove un giorno i nostri figli saranno. L'uomo della strada si chiede come mai paghiamo così tanto la spazzatura con la Tarso, la Tari in generale e le città sono quasi tutte sempre sporche. Perché? Il perché è dovuto al fatto che l'uomo comune vede non un cambiamento nella bolletta che si trova ogni volta a pagare sulla tassa dei rifiuti ma allo stesso tempo dice io perché devo cambiare se non mi cambia anche l'aspetto economico. Poi a tutto questo si aggiunge il fatto che abbiamo questa brutta abitudine che appena vediamo una borsa a terra di spazzatura subito mettiamo la nostra accanto e ovviamente si fa poi il cumulo e si crea la problematica. Quindi dobbiamo cercare di rimproverare questa gente che ha questo pensiero di lasciare la spazzatura ovunque. Quindi questione di cultura anche? Principalmente è di cultura perché noi dobbiamo far sì che la persona che butta la spazzatura fuori dall'orario previsto dal comune o non la qualità indifferenziata o differenziata se si fa quel giorno con le tempistiche corrette. Quindi aiutiamoci l'un con l'altro e sicuramente porteremo una miglioria a questa mentalità sulla raccolta differenziata. E a proposito di cultura ma anche di educazione, di modelli educativi, a proposito di indifferenziata ma di raccolta in generale dei rifiuti, Siciliana Maceri si pone al centro dell'attenzione non soltanto in Sicilia anche a livello nazionale e internazionale. Siete pronti anche a interagire con tante aziende se vogliono dei consigli, se vogliono essere coinvolti perché siete a disposizione appunto della gente per un mondo sostenibile finalmente ma con i fatti e non con le parole. Siciliana Maceri oltre con la gestione sulla raccolta differenziata e sulla commercializzazione delle materie prime secondarie ha attuato da diversi anni il piano di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata anche attraverso il proprio sito internet e il suo portale. È vero che sul nostro sito sicilianamaceri.com la gente che vuole conoscere come si attua, come si possa differenziare, troverà tutte le nozioni più importanti per effettuarle. Noi siamo a disposizione per diversi enti per sensibilizzare la raccolta differenziata e cerchiamo ogni giorno anche tramite i nostri gesti di poter passare queste idee alla gente che vuole migliorare il settore dei rifiuti e del raccolta differenziata. Ricordando sempre che i rifiuti sono risorsa. Assolutamente, i rifiuti sono la risorsa e che speriamo un giorno possa essere risolto nel modo migliore e che possa essersi la raccolta differenziata arrivare anche al 100%. È un sogno. È un sogno forse, ma bisogna inseguire e credere nei sogni. Grazie. Grazie a voi. Grazie.